Secondo una recente teoria, se il nostro cervello è assolutamente convinto di qualcosa, essa, anche se è reale, può avere ripercussioni sul nostro corpo. Ad esempio, incubi molto realistici in cui riceviamo delle ferite possono portare il nostro corpo a generare automaticamente le stesse ferite al risveglio. E ogni paranoia, illusione o pensiero strano che causa forte stress al cervello per il suo realismo può causarci danni reali. Anche se ci ripetiamo che è solo una fantasia, un cervello paranoico è difficile da governare. Quindi, adesso, prega con tutto te stesso che il tuo cervello capisca che non c'è nessuno dietro di te.